Articolo dodicesimo di Il lo la e gli le di Gioia Miglia Romagna. Le catene si stanno avvicinando. Finalmente le associazioni di categoria sono venute fuori per quello che sono in realtà e per quale motivo volevano la Borghestein. Per dare la colpa ad un altro dei propri progetti, a mio avviso. Quello che io ultimamente dico nei miei TG si sta avverando. Professionalità basata sul posteggio. Foto A. Chi lo decide e cosa vuol dire? Le confesercenti? Magari devi fare anche la tessera. Oppure ti danno dei punteggi per partecipare a dei corsi che organizzano sempre loro. Oppure obbligarti ad avere un cambio nuovo e tante altre cose che in questo momento non mi vengono in mente. Ma di sicuro si dovrà passare da loro per poter lavorare. Introduzione di mercati di qualità. Sì, come quello che ho parlato nell'articolo antecedente a questo. I mercati verranno organizzati dalle associazioni. Si pagheranno plateatici esorbitanti. Mi sa proprio che andrà a finire così. Magari il mercato di qualità fatto il giorno prima del mercato settimanale. Abbiamo la liberalizzazione per le multinazionali. dove potranno continuare a vendere sotto costo, vendere cineseria da un euro in su e farci concorrenza spietata. Con i saldi fatti ad inizio stagione invece che fine stagione. E noi dovremo creare dei mercati di elite dove si pagheranno plateatici esorbitanti per mantenere solo degli stipendi. Questa non è libertà e neanche democrazia perché daremo la nostra licenza in mano a questa gente che deciderà quando e come farci lavorare. Chi ci garantisce poi che in questo modo lavoriamo tutti? Visto che in Italia stiamo passando una crisi epocale che nessuno ancora sa come fare ad uscirne. Una crisi iniziata più di 30 anni fa con l'inizio della chiusura di molte fabbriche artigianali. E visto anche che le associazioni di categoria in questi anni non sono riusciti a salvare la chiusura dei piccoli negozi. Con questo sistema non si risolveranno i problemi ma sarà la fine dei mercati ambulanti. Quello che mi fa più specie è che ci sono molti ambulanti che sono contenti di queste nuove regole. Ma non si rendono conto che con i mercati di qualità ridurranno il numero degli ambulanti e l'area mercatale. Scontentando così la clientela che con il tempo smetterà di frequentare il mercato. Divieto di incrocio nella partecipazione a società di capitale. Foto B Cosa significa? Per me significa che possono esserci anche spazi per le multinazionali. Però solo una per articolo. Faccio un esempio. Una coppa per il mangiare. Un zara per l'abbigliamento. Calzedonia per l'intimo. Adidas per le scarpe. Ikea per i mobili. Eccetera. Che però faranno concorrenza a noi ambulanti. Perché loro importano direttamente i loro prodotti. E potranno avere prezzi più accessibili. Mentre noi, comprando tutti negli stessi ingrossi, ditemi, a meno che non iniziate a produrre da soli ciò che vendete. Come ho detto nell'articolo di ieri, differenziarsi sarà molto, molto difficile. Ma a quanto pare l'uomo ama vivere in catene perché si sente più protetto. Ma prima o poi le catene inizieranno a stringere. Ed allora sarà tardi.